Un minibus da 16 posti che viene utilizzato in servizi di pubblica utilità nel comune di Capo d'Orlando, un mezzo di trasporto che ha qualcosa di speciale, totalmente autonomo dall'anidride carbonica e in grado di alimentarsi sia idrogeno che elettricamente, è uno dei gioielli tecnologici frutto degli studi del CNR di Messina, Istituto di Tecnologie Avanzate. Il veicolo viene rifornito grazie ad un sistema di accumulo in batterie nel sito di sperimentazione in contrada masseria attraverso idrogeno prodotto da fonti rinnovabili ed in particolare dal fotovoltaico. Allo studio del centro di ricerca di Messina l'impiego di mezzi simili anche per il trasporto di turisti nella valle dei Templi di Agrigento e per la realizzazione di un servizio di car sharing che vorrebbe istituire il comune di Palermo. I costi permettano in strada mezzi come quelli utilizzati dal comune di Capo d'Orlando, qualcosa di simile esiste solo a Bolzano, sono ancora elevati. Il progetto messinese è stato finanziato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ma se le case automobilistiche dovessero decidere di investire su questa nuova tecnologia i costi potrebbero essere abbattuti e di vantaggi arriverebbero per tutti. I livelli di inquinamento nelle nostre città potrebbero ridursi notevolmente.